Enrico Somma, giornalista senza Giacca e Cravattor, continua la tua attività di scrittore, soprattutto su argomenti scottanti. L'ultimo libro si intitola Attentato giudiziario, punto interrogativo alla Costituzione e alla famiglia, tribunali per magistrati? Tra l'altro l'ho sottoposto al mio avvocato, professore universitario di penale, che mi fece assolvere, che purtroppo ho saputo, è morto qualche mese fa, il professore Messina, che mi disse, sai che è un lavoro graziosetto, detto da un professore universitario di penale, ponendo questioni come quello attentato, col punto interrogativo hai fatto bene a sottolinearlo tu, giudiziario. E sulla mia esperienza di giornalista processato per un articolo veridico e in ogni sua parte scritto alla procura di Caselli, Grasso, sentenza Morosini, Scarpinato che pure ci mise del suo, eccetera, eccetera. Credo che abbia un significato, cioè di un giornalista di provincia come te, che dirigeva come te, un emettente che scriveva sull'Ora, perché tra l'altro io riprendo gli articoli miei sull'Ora, dove scrivevo che tolgono i figli ai poveri per darli in adozione ai ricchi o alle case famiglie, tra l'altro utilizzando pure la legge 194 sull'aborto, santa e reazionari del Movimento per la vita, reazionari del Movimento per la vita, tra cui c'era mia moglie cofondatrice di un centro aiuto alla vita. E le questioni che oggi più attuali rimbalzano in tutta Italia sono sempre queste, angeli e demoni. Perché questi punti interrogativi, attentato alla Costituzione? Perché? E guarda, io da comunista, contesto partito comunista, infatti concludo con gli articoli di Sanzonetti, che come me dice, io che via te sarebbero in guerra, eccetera, eccetera, beh, devo dire che oggi questa magistratura, insomma, è arrivata a questo punto qui di abuso di potere, per cui io propongo il Tribunale per magistrati sul modello, perché sono l'unica categoria che non è sottoposta al processo. Io ho denunciato 10 magistrati al CSM e pure alla Procura, sortendone niente, cioè la conferma per silenzio e assenso di tutte le mie denunce contro magistrati, addirittura un procuratore della Repubblica, Cucino Resino, che arriva a procurare Palermo e fa scomparire per tre anni un procedimento in cui io sono parte offesa per calunia dopo essere stato assolto. E allora queste questioni io non le pongo campate in aria, le pongo non solo su fatti, ma su esperienze di giornalista di provincia. Tu hai svelato o comunque hai trattato un segreto che qualcuno ha definito di Pulcinelle, il famoso telecomando della strage di Falcone da quella distanza, con geni così potenti probabilmente allora non esistevano. Dico è un segreto di Pulcinella, giudiziario e professionale a cui ho ottenuto fede, fino a quando il giudice Di Matteo lo ha rivelato in una trasmissione di Atalantide, a Purgato, il giornalista Purgatori, che per me è tra i più grandi e bravi giornalisti che ci sono in Italia, moderatissimo, prudente, eccetera, eccetera. Ma sono cose che tutti i giornalisti di quel tempo, pure io direttore e mettente al locale, andando lì, come funzionano tutte le comande a questa distanza, se non c'erano telecomande che potevano funzionare a quella distanza. Ma non solo non c'erano telecomande, anche se ci fossero stati, qualunque esperto mi dice, nessuno può avere la prontezza del dito, della mente, del cervello, degli occhi per calcolare queste cose qui, a quella sincronia necessaria per queste cose. Quindi qualcuno aveva montato un trasponder sull'auto di Falcone? Io lo spiego tecnicamente, dopo che Di Matteo lo ha detto, ma non tecnicamente, l'unico congegno che poteva fare scattare con quella sincronia l'esplosione della strage di Capace era un trasponder che si usa soprattutto nelle gare a circuito per misurare il numero dei giri nelle gare a circuito e che non poteva che essere messo nell'auto di Falcone o più probabilmente in quello della scorta, tant'è che l'auto della scorta ebbe più danni, morirono tutti, mentre l'auto di Falcone ebbe un sopravvissuto e lo stesso Falcone morì dopo molte ore.